Dopo il grande successo dello scorso anno, giunge alla sua seconda edizione Carmiano Mediterranea, una a due giorni dedicata all'universo enogastronomico, scandita da momenti conviviali, degustazioni, spettacoli, workshop e musica dal vivo. Un'idea di marketing territoriale che punta all'offerta turistica in ogni periodo dell'anno. Un evento fortemente voluto dalla nostra amministrazione comunale dopo il successo dello scorso anno, un evento finanziato fortemente con fondi provenienti dal bilancio comunale, 34.000 euro, che si propone l'obiettivo di far conoscere l'identità del nostro territorio e ha come scopo quello di contribuire a quel processo di destagionalizzazione del turismo. Siamo contenti di vivere questo ottobre, questo autunno ricco di eventi nel Salento e ricco soprattutto di turisti che scelgono il Salento in un periodo diverso, a maggior ragione e credito a tutte le politiche di destagionalizzazione che vengono messe in campo sia dalla regione Puglia, sia dalla provincia di Lecce, ma anche dai singoli comuni che come Carmiano promuovono una a due giorni impegnativa e davvero che richiede impegno economico e organizzativo da parte del comune per portare turismo. Obiettivo dichiarato quindi mantenere un'offerta turistica all'altezza tutto l'anno. Tra le novità di questa edizione una forte attenzione all'enoturismo del territorio, come ci conferma il CEO di BTM, Nevio d'Arpa. Quest'anno ci sarà una sezione proprio dedicata all'enoturismo con dieci cantine e con i sommelier che faranno degustare il nostro prodotto principe, perché Carmiano è un'area soprattutto di vino. Grazie. Grazie. Grazie.